ciao golli ma che bel bosco wow ma incantevole ma molto bello ti ringrazio di andare a cercare le pigne le pigne si devo fare una ricetta incredibile a sì che ricetta fai pignacola ma che cosa dice dai cosa hai preso ste pigne a fare allora guarda il gioco molto semplice si prende una pigna si va battuta per terra e poi si a lei non ti piace no pensavo fosse qualcosa di più simpatico senti ma piuttosto queste pigne le vogliamo raccogliere per portarcele poi per natale per l'albero la verità è che io dovevo andare a funghi ma non ho trovato neanche uno e vabbè ma cioè se mi sembra che sia un po all'inizio del bosco il bosco dopo addentrato sei in una strada bellissima veramente bellissima scenografica ma asfaltata vai golli golli e dall'altra parte che dobbiamo andare ciao bambini ciao 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 ciao